In questo nuovo capitolo, il capitolo 7 del vostro libro di testo, applicheremo le nozioni che abbiamo imparato nel capitolo precedente sulla popolazione al nostro paese, all'Italia. Innanzitutto, quanti siamo in Italia? In Italia siamo poco meno di 59 milioni, 58 milioni e 870 mila 762 persone. Questo è il dato del 2023. Come potete vedere, la nostra piramide dell'età tutt'altro sembra fuorché una piramide, ha una base molto stretta e un allargamento in corrispondenza dell'età più adulte. Quindi, popolazione di 50 milioni di abitanti circa, sono più donne che uomini, vedete che la parte rosa è più rigonfia rispetto a quella azzurra, sono più anziani che giovani, la parte più larga della piramide dell'età è proprio quella corrispondente all'età più adulte. Infatti, quelli che hanno più di 65 anni sono il 23,5% della popolazione, circa un quarto della popolazione, mentre quelli che hanno meno di 15 anni sono solo il 12,8%. Il saldo naturale è negativo. Nel 2022, rispetto all'anno precedente, rispetto al 2021, abbiamo perso 320.899 unità, quasi 321.000 unità. Il saldo migratorio, per fortuna, però è in positivo, ma in calo rispetto agli anni precedenti. È di 96.931 unità in più rispetto al 2021. Gli stranieri in Italia sono solo l'8,7% della popolazione, non arrivano neanche a 4 milioni a dispetto di chi predice un'invasione musulmana che tende a islamizzare l'Italia. Vedete che su circa 59 milioni sono poco più di 3 milioni e mezzo, quindi altro che invasione. I nuovi nati, infatti, rispetto ai nuovi nati, il 15% è figlio di stranieri. Perché la popolazione diminuisce? Perché c'è un basso indice di fecondità, 1,2 figli per donna. Ricordiamo che perché si formi una nuova generazione ci vogliono due figli per donna. Infatti due figli per donna sostituirebbero i due genitori e le generazioni andrebbero avanti. In questo modo, invece, non si forma la metà di una generazione. Aumenta la speranza di vita. Gli uomini sono arrivati a una speranza di vita di 80 anni e le donne di 84 anni. Perché si mangia meglio, perché sono migliori le condizioni igieniche, perché il servizio sanitario va bene, perché gli uomini vivono in media di meno delle donne, perché gli uomini fanno dei lavori più logoranti, più stressanti e quindi mettono più a dura prova il loro fisico. Come potete vedere da questa carrellata di piramidi dell'età che vanno dal 1926 al 2016, la piramide dell'età italiana nel corso degli anni si è trasformata più o meno a una forma di una trottola, quindi stretta nella parte inferiore, perché nascono meno bambini, e rigonfiano nella parte superiore, perché ci sono più adulti e più anziani. Quindi vedete che l'andamento della popolazione è andato decrescendo progressivamente. Ma se osserviamo i dati del 2022, la tendenza demografica è in calo. Vedete che rispetto alle quasi 570.000 nascite del 2008, siamo arrivati progressivamente nel 2022 a poco più di 390.000 nascite. Cioè il numero delle nascite si è quasi dimezzato. A fronte invece delle morti che continuano ad aumentare, perché essendoci più anziani, muoiono progressivamente più persone. Come potete vedere da questo istogramma che riguarda il numero dei morti in Italia dal 2015 al 2022, nell'anno 2020, l'anno del Covid, c'è stata un'impennata delle morti. Quindi, stando a questi dati del 2022, vediamo che il saldo naturale del 2022 è di meno 320.899 unità, perché se hai 392.600 nati, sottraiamo 713.499 morti, otteniamo un numero negativo. Ma non aiuta neanche molto il saldo migratorio, pur essendo più gli immigrati, 105.131 nel 2022, sempre con questi numeri, sembra così ridicolo il discorso di quelli che parlano di invasione. Sottraiamo gli 82.000 emigrati, quelli che vanno via dall'Italia, otteniamo solo 96.931 il numero del saldo migratorio in positivo. Se sommiamo il saldo naturale e il saldo migratorio, il numero esce, il saldo demografico esce comunque negativo. Quindi nel 2022 abbiamo perso 223.968 unità di popolazione. Vedete che i migrati e i migrati hanno un aspetto diverso nelle icone che ho messo. Gli immigrati hanno delle fattezze africane o asiatiche, mentre gli emigrati hanno, vedete, vestono giacche e cravatte, hanno un trolley, perché emigrano purtroppo dall'Italia i giovani con un alto titolo di studio, perché la ricerca, perché il lavoro specializzato in Italia non è valorizzato e quindi vanno nelle grandi università e nei grandi centri di ricerca dei paesi esteri. Dove vivono gli italiani? Questa ormai la conoscete, è una cartina tematica della densità di popolazione. Vedete che non è equamente distribuita su tutto il territorio nazionale. La densità di popolazione media è di 196 abitanti per chilometro quadrato, ma come potete vedere dalla cartina si va dal colore più chiaro, dove ci sono meno di 100 abitanti per chilometro quadrato, al rosso intenso, dove sono superiori ai 5.000 abitanti per chilometro quadrato. In Italia è molto sviluppato il fenomeno dell'urbanesimo, infatti il 70% degli italiani vive in città, avendo abbandonato le campagne dopo lo sviluppo industriale italiano negli anni 60 del 1900. Ci sono poche metropoli, solo Roma e Milano supera il milione di abitanti. La maggior parte degli italiani vive in città medio-piccole. Le aree più densamente popolate sono, come potete vedere dalla distribuzione dei colori sulla cartina, la pianura padana, la costa Ligure, la vallata dell'Arno che va da Firenze fino alla costa della Toscana, la costa Adriatica, dove ci sono i grandi impianti turistici balneari, l'area di Roma, la città capitale, e l'area di Napoli, anch'essa densamente popolata. Per il resto, prevalgono dei colori tenui. Come cambia la società italiana? La società italiana è in continua evoluzione e presenta grandi cambiamenti come il resto dei paesi del mondo, con grandi differenze all'interno della composizione sociale. Innanzitutto in Italia è aumentato il numero di chi studia anziché andare a lavorare in giovane età. Vedete, in questo grafico potete vedere la progressione degli studenti universitari dal 1961-62 al biennio 2020-2021. Invece decresce il numero dei matrimoni, infatti i giovani si sposano tardi e o non si sposano affatto e le famiglie sono comunque composte in media da 2,3 componenti, cioè fanno a stento un figlio, alcune coppie non lo fanno neanche. Aumentano invece il numero degli stranieri. Vedete che dal 1961, quando la percentuale degli stranieri sulla popolazione totale era dello 0,1%, siamo arrivati all'8,7%. Le comunità più numerose sono quella romena, albanese e marocchina. Ma per capire quanto si eritò irrisorio l'influenza dell'elemento straniero in Italia, guardiamo i grafici europei. In paesi come la Svizzera, che ha certo molti meno abitanti dell'Italia, la popolazione degli stranieri arriva al 25,5%, in Germania al 13,1%, in Spagna all'11,5%, nel Regno Unito all'8,9%. E in nessuno di questi paesi si parla di islamizzazione o invasione straniera. Noi che abbiamo la popolazione più vecchia d'Europa e con il tasso di fertilità più basso in Europa, ci allarmiamo per la presenza di extracomunitari, di immigrati, che invece ci servono tantissimo per soppiantare i giovani lavoratori italiani che non esistono più, già che non nascono molti bambini. Vediamo adesso, proprio a proposito dell'immigrazione, di spiegare meglio il concetto di cittadinanza. I migranti che cercano lavori, che cercano lavoro, migliori servizi sociali e migliori condizioni di vita, mirano anche a una posizione stabile nella società italiana. Ma questo non è molto semplice. In molti paesi europei, infatti, rimangono stranieri per sempre. È difficilissimo ottenere la cittadinanza, anche se molti di questi in questi paesi sono nati e cresciuti, hanno studiato e hanno costruito i loro rapporti sociali. Perché? Perché nei paesi mediterranei, come l'Italia, la Spagna, ma anche in Olanda, ha la cittadinanza automaticamente alla nascita solamente se ha uno dei due genitori, è italiano, spagnolo, olandese. Invece, se i due genitori sono stranieri, pur essendo nato in Italia, Spagna e Olanda, deve aspettare 18 anni per avviare una complicatissima e lunghissima pratica burocratica per ottenere la cittadinanza. Infatti, in Italia, per quanto riguarda il riconoscimento alla nascita della cittadinanza, vige quello che si chiama lo ius sanguinis, cioè diritto di sangue, come se la cittadinanza sia una questione genetica, solo che, come se geneticamente i genitori trasmettono i geni della cittadinanza. È veramente una sordità. Infatti, invece, negli Stati Uniti e nei paesi anglosassoni, vige il diritto di suolo o ius soli, cioè se tu nasci sul suolo statunitense, inglese, o australiano, o di altri paesi anglofoni, sei automaticamente cittadino di quel paese. Diverse volte, diverse parti politiche hanno avanzato, quelle più progressiste, hanno avanzato le proposte di legge per far approvare anche in Italia lo ius soli, il diritto di suolo, ma alcune forze più conservatrici, alcune forze più identitarie hanno impedito all'elemento straniero di identificarsi come italiano. Una, diciamo, una bellissima immagine che invece ci testimonia l'italianità anche delle persone di diversa etnia, di diversa razza, di diverso colore è per esempio il periodo in cui Balotelli giocava in nazionale, ci ricordiamo tutti il gol che ha segnato agli europei contro la Germania quando abbiamo esultato a prescindere dal colore della sua pelle. Ecco, questi episodi dovrebbero essere più frequenti in Italia, dovremmo cercare di eliminare le differenze anche perché dai migranti e dalla loro elevato tasso di fertilità dipende il destino della nostra etnia, della nostra nazione. Con questa slide si conclude la prima parte del capitolo nella seconda parte analizzeremo l'organizzazione politica dell'Italia e parleremo dello stupendo libro di leggi che sta la base del nostro ordinamento e cioè la Costituzione italiana. Arrivederci.